Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Continuiamo oggi la lettura del Vangelo di Luca, capitolo 11, dal versetto 47. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto, manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo. Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della Lecce, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi lo avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendo gli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Amen. Ecco, carissimi amici, siamo ancora in questa fase in cui Gesù si scaglia contro i dottori della legge e gli scribi per dei motivi molto precisi, molto particolari. Ecco che Gesù, abbiamo ascoltato anche ieri, di come si scagliava contro coloro che caricano gli altri di pesi insopportabili mentre loro non li volevano sopportare e prendere, caricarsi. E poi abbiamo ascoltato di come dice, di come la giustizia e l'amore di Dio era stato trascurato. Ecco, oggi invece vediamo di come riprende i dottori della legge dicendo, voi avete portato via la chiave della conoscenza, non siete entrati e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. Ecco che invece Gesù, se i dottori della legge hanno portato via la chiave della conoscenza, è venuto a restituircela. Gesù, in Gesù oggi noi possiamo trovare una nuova via, possiamo entrare a far parte del suo regno. Carissimi amici, il Vangelo è questo, l'annuncio di Gesù è questo, tra pochissimi mesi sarà Natale e il Natale che cos'è? Ma quante volte, quante situazioni, quanti disagi nelle nostre vite, nella nostra società, nella salute, come stiamo vedendo, ci impediscono di guardare a ciò che Dio ci ha donato, a ciò che è già presente nella nostra vita? Ecco perché oggi la liturgia ci presenta la lettera agli Efesini, capitolo primo, in questo bellissimo inno cristologico. Versetto 3 Quindi è San Paolo, che è l'Efesini, scrive questo meraviglioso inno, dicendo, affermando, dichiarando che il Padre ha benedetto noi. Quindi noi siamo benedetti oggi, carissimi amici, siamo benedetti con ogni benedizione che scende dal cielo e presente nella nostra vita per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. Versetto 4 dice, in Lui, quindi in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Questo è l'annuncia, è l'annuncia che ci è stato fatto, è l'annuncia che anche oggi ci viene ripresentato. Quante volte dimentichiamo che Dio ci ha scelto, anzi, quante volte non lo sappiamo proprio, non abbiamo coscienza che Dio ci ama, che Dio mi ama, che Dio mi ha scelto, ma non dopo che sono nato e io all'età di 16 anni mi ha chiamato e mi ha scelto ad essere suo, o ci ha chiamati ad essere cristiani dopo che siamo nati, ma no a Lui, guardate che è ancora più profondo l'amore di Dio, perché noi non ci arriviamo con la nostra né immaginazione né con la nostra fantasia, ma la parola di Dio è vera. Prima che ancora i nostri genitori si conoscessero, si incontrassero, nascessero, ma qui dice prima della creazione del mondo, prima che tutte le cose furono fatte, ancora prima di tutto ciò Dio mi aveva pensato, Dio aveva pensato a Luca, Dio aveva scelto me per appartenere a Lui e noi sappiamo che Dio è amore e quando ha pensato a me, ha pensato a te, ha pensato che noi in Lui possiamo essere riempiti, amati, rinnovati. Dice per essere santi e santi non significa che non commettiamo peccato, se quando saremo in cielo ormai non li facciamo più grazie a Dio, ma santi significa separati, questa radice di questa parola, separati dal mondo, ovvero pur vivendo nel mondo apparteniamo a Dio, pur vivendo in una società dove i valori non sono quelli cristiani, eppure quando il nostro cuore anche oggi lo doniamo a Dio, lo doniamo al Signore Gesù, noi siamo santi, cosa significa? Che viviamo nella Sua luce, in mezzo alle tenebre, in mezzo a lupi, ma come pecore di un buon pastore. E poi dice immacolati di fronte a Lui nella carità, carità intesa come agape, inteso come questo amore, amore che viene, che scende anche oggi dall'alto per me, come una benedizione meravigliosa, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Cristo Gesù, secondo il disegno di amore della Sua volontà. Ecco, ciò che da parte dei dottori della legge, verso cui si è scagliato Gesù, cioè loro avevano tolto la conoscenza, la chiave della conoscenza, non hanno fatto entrare le persone per stare con Dio, ecco che Gesù ci ha invece introdotto alla presenza del Padre, per vivere quotidianamente con il Padre, per gustare, come dice il Salmo, le meraviglie di Dio, per gustare quanto è buono il Signore. Quindi oggi prendiamo un tempo, 5 minuti, 10 minuti, leggiamo questo inno meraviglioso della lettera degli Efesini, capitolo primo. Dio ci benedice con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Cristo mi ha scelto, prima di creare il mondo, per essere santo, cioè per appartenerli, per essere anche oggi Suo. E quindi in mezzo a difficoltà, sofferenze, disagi, problemi, io appartengo a Dio. Dio è la mia luce, Dio è la mia consolazione, cari amici. E in lui, in Cristo, sono figlio, adottivo, ma sono figlio. Ecco perché le diciamo Padre nostro. E allora oggi vi invito ad entrare in questa grazia speciale che ogni giorno è preparata da Dio per noi, per mezzo di Gesù Cristo. E le diciamo, vieni, oh Signore Gesù, io oggi vengo a Te, Signore, perché voglio sperimentare che Tu mi hai scelto, Tu mi hai chiamato per appartenerti e per sperimentare oggi una vita divina, una vita di pace, una vita alla Tua presenza, Signore. Io Ti voglio offrire le mie difficoltà, Ti voglio offrire le mie angosce, Ti voglio offrire le mie paure, le mie incertezze, i miei scoraggiamenti. E Ti chiedo e Ti invoco mediante il Tuo Spirito Santo perché io possa sperimentarti nella mia vita e dovunque oggi andrò, qualsiasi cosa farò, poiché Tu sei la mia forza. A Te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, camminiamo in Lui, santi e immacolati, perché lo Spirito Santo è con noi e lo invochiamo nella nostra vita. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani. Ciao, dalla coinone Giovanni Battista, Oasi di Biela. Grazie a tutti. Grazie a tutti.